Un nuovo corso per il cimitero di Salerno parte una nuova fase di riorganizzazione che tenderà innanzitutto all'ottimizzazione della gestione di alcuni servizi. Il Consiglio Comunale di Salerno ha approvato nella seduta di ieri l'affidamento della gestione operativa dei servizi cimiteriali alla società in house Sistemi Salerno Servizi Utility SRL. Dopo otto anni dall'affidamento del servizio di illuminazione e manutenzione luci votive presso il cimitero di Salerno la società oggi con l'approvazione della convenzione del civico consesso andrà ad affiancare il comune di Salerno in una serie di attività custodie e decoro in primis le operazioni di esumazione e destumulazione interventi di riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di una vera e propria svolta che consentirà di ottimizzare la gestione anche degli spazi e migliorare i servizi. Si procederà al censimento di tutte le aree puntando ad individuare tutte le sepolture le posizioni, le titolarità e scadenze delle concessioni. Un primo tassello di un'operazione più complessiva che guarda anche alla realizzazione di un tempo crematorio a Salerno. A dirlo ai nostri microfoni Mariano Mucio, presidente di Sistemi Salerno Servizi Utility. Diciamo che noi ci occuperemo in questa fase di un'attività di accompagnamento per quanto riguarda tutta la parte amministrativa e in più ci occuperemo la parte tecnica, quindi le varie operazioni di asumazione, inumazione ed altro. In più ovviamente avremo un'attività di piccola manutenzione che svolgeremo noi e faremo una sorta di ricordo, di interpello all'amministrazione per quanto riguarderà interventi di manutenzione straordinarie che andranno ovviamente preventivamente autorizzati e sui quali ovviamente si interverrà con altre risorse economiche per poterle fare. Diciamo che è una fase nella quale insieme andremo a verificare le modalità di esercizio di questa funzione e nel corso di questo affiancamento che avverrà col comune andremo a valutare anche la presenza o la quantità del personale anche amministrativo che nel frattempo resta del comune e quindi verificheremo insieme se c'è la necessità di mantenere l'attuale organico amministrativo del comune o se sostituirlo completamente. In pratica i servizi di sepoltura e asumazione passeranno ora a servizi utility? Esatto, questa è tutta la parte che faremo noi e quindi una parte importante che faremo accompagnata a questo è un'opera indispensabile per poter sistemare al meglio le cose al cimitero che è un'attività di censimento. Questo consentirà di avere certezza rispetto alla titolarità delle concessioni, alle scadenze delle concessioni e quindi alla possibilità di liberare anche spazi che attualmente sono occupati e che invece andrebbero liberati. Al tempo stesso questa attività di censimento ci consentirà di offrire, questa è un po' la novità, uno strumento importante per i cittadini che oggi ovviamente devono chiedere informazioni, chi viene da fuori, chiedere informazioni rispetto a dove è un defunto, per cui il programma consentirà anche di avere la possibilità di gelocalizzare sostanzialmente le singole tombe. Io devo ringraziare ovviamente l'amministrazione per questo importante affidamento, voglio ringraziare il Consiglio Comunale che ieri sia la maggioranza che l'opposizione hanno avuto parole di apprezzamento nei confronti della società e della mia persona. Mi auguro che questo possa essere il primo tassello di un'iniziativa più complessiva perché c'è anche da affrontare e trovare le modalità con cui risolvere la realizzazione del nuovo tempio crematorio. Qui la Giunta regionale ormai ha deliberato rispetto a quello che è il programma regionale, quindi abbiamo contezza di quali sono le aree in cui si possono realizzare i nuovi tempi crematori. Aspettiamo che lo approvi anche il Consiglio regionale, però il Comune di Salerno potrebbe già iniziare a muoversi per quanto riguarda le realizzazioni di questa importante opera.